Come lo faccio a prendere in mano che lo butto? Come faccio a lanciare lontano? No! E' l'amato! Ma se passo uno così per caso li va in testa che succede? No! Mi ha lotto quello più avanti! Restano un po' di zombie! Oh cazzo, mi stanno aggredendo le 5 da zombie! Oddio, dove ne sono? Oh porca puttana, sto perdendo troppa vita! Questo è il ristorante quindi credo che ci sia qualcosa da mangiare! No! 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 Ma il riso va cotto! Ok! No! 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 Spero che c'è tempo che fa danno il tipo vede bianco e nero. Ho chiuso la ferita, non so scherzerò, è andato a accadere uno zombie, ecco perchè. No! 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 Oh cazzo sono svegliato Io sto con il mio pupazzo in mano, sto giocando col pupazzo, con Teddy, si è mangiato, sto giocando con Teddy Ah no è svenuto a me